E' passata ieri sera la variante urbanistica, un'assoluta del consiglio in cui parte dell'opposizione aveva già abbandonato l'aula, abbiamo votato questa delibera, una delibera importante perché è una previsione urbanistica che prevede delle destinazioni di parcheggi necessarie a nuova struttura, il nuovo impianto sportivo, una nuova palestra che andremo lì a costruire. Non solo l'asilo di Roiano a fare scintille ieri in consiglio comunale, era passata la mezzanotte quando l'aula ha approvato la variante 15 sull'ex pavan con 22 voti favorevoli, 8 contrari, nessun astenuto e 11 assenti. Un passaggio che consente ora l'avvio del cantiere per realizzare la palestra multidisciplinare omologata a CONI con fondi PNRR. Un cantiere che ha avuto già la sua prima fase di demolizione, terminata e tutte le verifiche, quelle belliche, sono date buon fine e abbiamo avuto anche l'ok per quanto riguarda la verifica archeologica dei pozzi che sono stati rinvenuti, che non hanno rilevanza e quindi in accordo con la sovintendenza noi possiamo proseguire con la realizzazione di questa palestra che sarà una palestra utilizzata dalle scuole la mattina, questo ci tengo a sottolineare, abbiamo una scuola in zona di lingua slovena che non ha degli spazi, potrà essere utilizzata anche dagli anziani, pomeriggio. per le attività sportive dei bambini e anche degli agonisti. Ho tranquillizzato anche i consiglieri di maggioranza che non fossero a conoscenza del fatto che per quanto riguarda lo spazio educa d'aosta rimarranno alla scuola e nel caso utilizzati solo in aerorexascolastico. Sono intervenuti contro la variante i consiglieri La Terza, Altin, Richetti, Repini e Nicolini, mentre a favore hanno parlato il consigliere Giorgi e gli assessori Babudere e Lodi, che hanno accolto gli emendamenti di Adesso Trieste sui parcheggi di servizio entro un chilometro e sulla gestione del futuro impianto di via Frausin. Sui parcheggi Babudere ha riferito di aver colto l'opportunità prevista dalla legge di valutare soluzioni alternative, ad esempio la concessione in convenzione di posti del Parc di San Giacomo. Un emendamento che ricorda che le norme urbanistiche prevedono di poter individuare questi parcheggi nel raggio di un chilometro e non di cento metri, come invece è scritto attualmente nella variante. Ospichiamo che questo sia uno spunto per le tante osservazioni che immagino arriveranno da parte della cittadinanza per salvare almeno questi due luoghi importanti per l'educazione di tutto il rione, la Duca d'Aosta e il Pitteri, da un'invasione di automobili della quale San Giacomo non ha certamente bisogno.